Ciao a tutti ragazzi e bentornati, come state? Tempo fa ho fatto un video dove vi ho raccontato come ho trasformato quello che era la mia passione in un vero e proprio lavoro, ovvero il lavoro che faccio qui giornalmente su YouTube. Beh, sono feccato ovviamente una marea di domande a riguardo, nello specifico la più morbosa, ovvero quanto guadagni quei su YouTube. Beh, oggi vi spiegherò un po' come far girare un canale di questo tipo che ha raggiunto quasi 100.000 iscritti, che sicuramente non fa le visualizzazioni di un canale di intrattenimento, ma che comunque vi può permettere, quantomeno in Italia, di vivere e di vivere anche bene. Di solito non do adito tanto a queste domande, però mi sembra giusto comunque essendo qui su questa piattaforma anche raccontarvi come funziona e quali siano le potenzialità, perché non è vero che sia un mercato completamente impossibile da affrontare, sicuramente è diventato molto più difficile e sicuramente il periodo storico nel quale ci troviamo fa cambiare parecchie dinamiche, però tendenzialmente comunque guardando anche le statistiche nei sei anni di lavoro qui su YouTube, più o meno le cose si ripetono, un po' come la storia. Insomma, ogni cosa sembra quasi calcolata e quindi anche gestibile, controllabile. Detto questo, quindi, come si guadagna sostanzialmente su YouTube, ma anche ovviamente su altri social, ma specificamente qui sulla piattaforma di Google? Beh, sicuramente tramite i guadagni che arrivano da AdSense, quindi dalle pubblicità che appaiono durante i nostri video, dalle donazioni per coloro che fanno live, dalle affiliazioni, e poi vediamo nello specifico quali, e infine gli sponsor, esattamente come quello di oggi. Infatti, se siete alla ricerca di Windows 10 Pro oppure delle licenze di Office, beh, Ukies fa sicuramente al caso vostro. Anzi, proprio in questo momento, se doveste utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto, avrete anche il 20% di sconto, per potervi così portare a casa Windows 10 Pro a soli 13€, il che non è assolutamente male, soprattutto perché stiamo parlando di una licenza perenne. Io stesso acquistai su questo sito parecchi anni prima che diventasse il mio sponsor. Se vi preoccupa poi il discorso di attivazione della licenza, in realtà è semplicissimo. Una volta effettuato l'acquisto, all'interno della dashboard su Ukies, troverete proprio la chiave di Windows, copiatela, andate sul pannello di controllo nella sezione di attivazione di Windows, incollate questa chiave e il gioco è fatto. Veramente lo può fare chiunque senza avere grosse conoscenze del mondo dei PC. Vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per avere il 20% di sconto, ogni link qui sotto in descrizione. E grazie a questo sponsor, a questi inserimenti, come quello che avete visto in questo momento, io posso garantire un'entrata per me e ovviamente anche un supporto per il canale stesso, perché se riesco a sostentarmi e a sostenere tutte le spese che ci sono dietro a un canale di questo tipo, posso portarvi anche più video, avere più interazioni con le varie aziende e insomma poter fare tante tante cose più interessanti. Ma partiamo dalla base e vi farò vedere poi magari direttamente davanti al computer alcune informazioni importanti, ovvero il guadagno tramite YouTube, tramite le pubblicità che appaiono quindi su questi video. Qualora voi non doveste avere Adblock all'inizio di questo video, sicuramente avrete avuto la gioia di vedere alcune pubblicità, ultimamente anche due di seguito, che per me sono un po' la follia, però insomma questo è. Qualora voi non doveste schippare quella pubblicità o doveste guardarne comunque una piccola parte, io ricevo una percentuale. Questa percentuale non è una cosa fissa, ma è una cosa che si basa su tantissimi fattori diversi dal settore in cui vi trovate, quindi se state parlando di tecnologia o se state facendo intrattenimento, se il vostro target è un pubblico giovane oppure no, insomma ci sono veramente tantissime cose. Tra le altre cose YouTube ultimamente ha stretto ancora di più la morsa sui contenuti che sono idonei a ricevere pubblicità, di conseguenza ogni termine è un pochino fuori luogo, ogni cosa che non va bene alla piattaforma non viene ritenuto idoneo e di conseguenza non riceve nemmeno la pubblicità. O se la riceve voi non guadagnate nemmeno un centesimo. Però per capire meglio facciamo una cosa, passiamo sul computer così vi faccio vedere alcuni dettagli interessanti per capire effettivamente quanto un canale potrebbe guadagnare. Questo è il risultato che posso ottenere io con un canale di questo tipo, con un numero di visualizzazioni sicuramente contenuto rispetto a coloro che fanno altro, con un target decisamente più ampio del mio. Eccoci qui ragazzi davanti al computer, ora vi faccio vedere effettivamente alcuni dati importanti, quindi tolgo il mio bel faccione e passiamo direttamente al computer in modo tale che possiate vedere per bene ogni aspetto e vi racconto alcuni dettagli. Perfetto ragazzi, ora vedete quindi proprio le analisi del mio canale, le analytics del mio canale. Ci troviamo a gennaio, così vi faccio vedere uno dei mesi che è andato comunque meglio in questo ultimo periodo, poi febbraio-marzo cala sempre tutto, è abbastanza fisiologica come cosa succede ogni anno per poi ripartire. Come potete vedere durante gennaio ho fatto 565.000 visualizzazioni per un totale di 43.000 ore di video guardati e quasi 6.000 iscritti, per un totale, lo potete vedere qui, di 730 euro. Queste sono entrate stimate ragazzi, molto importante, non sono le entrate reali, nette o comunque anche lorde che riceverò. Questa è una stima rispetto a quelle che sono le potenzialità. Perché? Perché purtroppo questo dato non è determinato esclusivamente dalle visualizzazioni, ma è determinato dalle visualizzazioni monetizzate, o meglio per coloro che non utilizzano Adblock, quindi tendenzialmente da mobile, o da chi effettivamente non ha mai installato software di questo tipo. Quindi questa cifra può essere potenzialmente superiore rispetto a quello che effettivamente si riesce ad ottenere. Ora entriamo un po' nella sezione delle entrate così vi faccio vedere un po' il dettaglio. Rimaniamo sempre in gennaio. Come vedete qui abbiamo due informazioni fondamentali. Il primo è RPM e il secondo CPM. Come vedete se passate il mouse su queste voci vi arrivano le informazioni precise di che cosa si tratti. RPM significa semplicemente ciò che noi guadagniamo ogni mille visualizzazioni monetizzate. Quindi ogni mille visualizzazioni a gennaio le ho guadagnato 1,29 euro. Praticamente niente considerando che questo non è il netto che ricevo io. Il CPM invece è il costo effettivo per le mille visualizzazioni monetizzate. Quindi per capire sostanzialmente quanto gli inserzionisti hanno pagato per avere quelle mille visualizzazioni. E a gennaio era estremamente in calo esattamente come il guadagno. Ci sono stati mesi che magari sono andati peggio in termini di visualizzazioni ma sono andati meglio in termini di RPM. Quindi come potete vedere i guadagni sono veramente bassissimi. Se dovessimo guardare ad esempio quello che è successo da gennaio fino adesso quindi a fine marzo. Come potete vedere le entrate estimate sono state di 1.669 euro e solo 1,59 euro ogni mille visualizzazioni. Ora voi vedete questa cifra e dite beh non è male in tre mesi di lavoro. Beh in realtà è pochissimo perché dovete considerare una cosa stupenda. Da questi 1.669 euro dobbiamo togliere innanzitutto il 30% che si pappa YouTube. E quindi scendiamo già di 500 euro circa. Siamo a 1.168 euro. Dite vabbè insomma sì non è malvagio. Beh dobbiamo toglierci le tasse. Nel mio caso regime forfettario sono ancora nei primi 5 anni di attività quindi 25% circa in meno. Ok sapete quanto è diventata questa cifra? Ve la faccio vedere con una modifica così direttamente da Chrome. 876,84 euro e credetemi queste sono le entrate estimate perché vi posso garantire che è anche un po' più basso di questo. E questo in tre mesi. Come vedete quindi è praticamente impossibile perché se dovesse dividere questo per tre vorrebbe dire che ho guadagnato meno di 300 euro al mese. Netti. Vabbè è inutile dire che praticamente sarebbe impossibile campare. Vi faccio vedere ad esempio l'intera durata del mio canale partendo praticamente dal 3 marzo 2015 fino ad arrivare ad oggi. La crescita del mio canale c'è stata soprattutto negli ultimi due anni però questo è quanto. Quindi vi fate un'idea sostanzialmente di quant'è il reale guadagno di un canale YouTube. Soprattutto per un canale del mio tipo che in tutto questo tempo ha generato praticamente solo perché sono solo 13 milioni di visualizzazioni. Ci sono canali ovviamente molto più grandi di me che 13 milioni di visualizzazioni le fanno probabilmente in una settimana. Però non è il mio caso quindi io vi riporto esattamente quello che un canale da 100.000 iscritti che parla di tecnologia può fare nel corso della sua vita. Quindi ragazzi questo è quanto. Avete visto alcuni dati importanti e alcune informazioni per quanto riguarda il mondo YouTube. Insomma queste statistiche sono più o meno negative se dobbiamo dare un commento e fare una critica a riguardo. Il perché ovviamente le cifre siano così basse è dovuto al fatto che in Italia ancora pochissime aziende credono realmente nella pubblicità online. Di conseguenza non investono abbastanza nella pubblicità su AdWords e di conseguenza non arriva a noi su AdSense, queste sono le varie piattaforme di Google, la fruizione di queste pubblicità e quindi il guadagno. È una realtà ormai conosciuta, chissà quando le aziende si sveglieranno da questo punto di vista. Ovviamente i dati che la gente può avere soprattutto avendo canali in lingua inglese e all'estero sono decisamente superiori. In America arrivano a essere anche dieci volte tanto. Ma questo è il nostro mercato, possiamo farci poco, è inutile stare qui a criticarlo perché purtroppo così è. Beh ragazzi ora avete visto quindi come si può guadagnare direttamente da YouTube e non basterebbe quantomeno per sostentarsi. Lo avete visto benissimo, se avessi soltanto quell'entrata io sarei rovinato. E perché vi dico anche soltanto solo quell'entrata? Perché il tema principale o comunque credo che sia il filone generale da seguire è sempre diversificare. Questo vale qui su YouTube, nel lavoro improprio o negli investimenti. Avere un solo cliente, avere un solo fondo, beh non vi porta da nessuna parte perché il momento in cui voi perdete uno di questi siete rovinati. Quindi diversificare è fondamentale. E qui entrano in gioco ovviamente le affiliazioni. Le affiliazioni sono veramente tantissime. La più diffusa e famosa, perché ovviamente è disponibile per tutti, è quella di Amazon. Non posso entrare nel merito dei guadagni perché con Amazon c'è un contratto di non divulgazione, quindi non posso ovviamente dirvi nulla. Però quello che è certo, lo potete vedere ovviamente dalle pagine di Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione, voi potete guadagnare una piccola percentuale da qualsiasi acquisto che viene fatto tramite i link che voi postate in descrizione, nei commenti o su qualsiasi altra piattaforma. Una volta che l'utente clicca genera un cookie, un file che viene memorizzato all'interno del computer di chi ha cliccato e indipendentemente da quello che acquista, beh viene registrata una commissione a vostro favore. Rispetto alla categoria merceologica le cose cambiano. Ne consegue che più gente portate su Amazon e più gente acquista e più voi guadagnate. Ma in media quanto si può guadagnare? Molto difficile da dire perché dipende anche dalle vostre capacità comunque di coinvolgere la gente, di portare anche prodotti validi e che convincano la gente ad acquistarli. Ma si può mettere sicuramente da parte un piccolo gruzzo da 200-300 euro al mese fino anche a migliaia di euro rispetto alle vostre capacità e al vostro pubblico. Non esiste però ovviamente solo Amazon, esistono anche tantissime altre affiliazioni come ad esempio quelle dei software, delle VPN, quindi ogni volta che un utente acquista vi arriva una percentuale, la stessa cosa vale ovviamente anche per siti che vendono magliette o comunque capi di abbigliamento in generale. Insomma ci sono tantissimi siti che offrono proprio l'affiliazione. E capita a volte che convenga attivare l'affiliazione invece che essere pagati ad esempio per una piccola pubblicità all'inizio del video. Infatti qui entrano in gioco proprio gli sponsor, ve ne ho parlato fin dall'inizio. Lo sponsor l'avete visto anche in questo video. Io ho un accordo con l'azienda Wookies per portarvi i loro servizi, le loro offerte e garantire così a loro un piccolo spazio all'interno di un video circa 4 volte al mese. Questo è sicuramente un guadagno fisso molto utile, però potrebbe essere che magari facendo l'affiliazione e quindi condividendo questi link direttamente da solo avrei potuto guadagnare anche di più. Ma come detto prima, meglio diversificare e avere ogni tanto delle entrate fisse e sicure è sicuramente un'ottima cosa. Io ovviamente concentro tutti gli sponsor che abbiano senso col mio canale. Poi c'è gente che decide di sponsorizzare la qualunque, magari anche i rasoi per la barba, quando la barba non l'ha mai avuta. Ma qui è un errore dal mio punto di vista anche dell'agenzia che ha permesso questo, perché è un target totalmente sbagliato. Però insomma questi sono miei commenti personali. Voi che ne pensate? Ma tornando a noi, gli sponsor possono chiedervi o una piccola pubblicità all'inizio di un video o un video dedicato. E anche qui non esiste un prezzo fisso, comunque un listino per ognuno di noi. Ognuno rispetto al proprio target, alle proprie potenzialità, ai dati anche raccimolati e costruiti nel tempo, può determinare il proprio valore. Io so ad esempio di non avere un grossissimo pubblico perché ha un target molto ristretto, ma so che è un pubblico molto interessato a determinati argomenti. Di conseguenza so che potenzialmente posso vendere di più anche di un canale che ha 4 volte la mia dimensione. Ci sono anche canali da 10-20 mila iscritti che potenzialmente possono vendere di più, possono avere una conversion, così si chiama, molto più alta e molto più ampia di un canale da 500 mila iscritti. Come detto prima, se io do un rasoio in mano a una persona che non ha mai avuto la barba, che credibilità può avere davanti al suo pubblico? Perché il suo pubblico dovrebbe acquistare? Soprattutto se è un pubblico di minorenni che probabilmente la barba ancora non ce l'hanno. Quindi imparate bene a capire qual è il vostro pubblico, dove potete andare a mirare e soprattutto raccogliete tutti i dati dai vostri vari video, dai vari feedback, per capire quale sponsor potrebbe essere il migliore per voi. Perché non è detto che dobbiate aspettare che gli sponsor vi contattino. Potreste anche voi andare da un'azienda sulla quale volete puntare e proporre la cosa, dire guardate, io vi posso fare 30 secondi di pubblicità all'interno di un video. E vi chiedo solo questo, vi va bene? Se non vi va bene perché magari il mio canale vi sembra piccolo, guardate come i miei utenti hanno acquistato, o meglio, con mille visualizzazioni, quante cose ho venduto e credetemi che quando guardano le percentuali le cose migliorano o quantomeno capiscono che effettivamente c'è del potenziale. Ma veniamo ora alla parte più triste di tutto questo. Ne ho già parlato quando vi ho fatto vedere un po' i guadagni di YouTube, le tasse. Ebbene sì, perché questo essendo un lavoro, essendo un lavoro in autonomia, beh, ha un regime per quanto riguarda il pagamento delle tasse, come tutte le aziende che si rispettino. Nel mio caso, ed è quella che vi consiglio ovviamente di fare qualora un giorno voleste aprire qualsiasi tipo di attività in proprio, è di aderire al regime forfettario, che ha diverse regole, tra le quali il fatto di non poter fatturare più di 65.000 euro l'anno, ma che vi garantisce per i primi 5 anni un forte sconto sulle tasse e poi comunque un regime agevolato anche per il futuro e non è male. Infatti, se dovessimo adesso calcolare in questo momento quante tasse io andrei a pagare su tutto quello di cui vi ho parlato, beh, più o meno il 25% del mio guadagno totale se ne va. Il che non è assolutamente tanto, soprattutto se doveste pensare al fatto che le normali partite IVA arrivano anche al 45%, quindi non posso assolutamente lamentarmi. Ovviamente dopo i 5 anni passerà da 25% a 35% di tasse, quindi mi avvicino sempre di più alle partite IVA tradizionali, soprattutto perché molto probabilmente uscirò dal forfettario molto presto. E ogni azienda, che sia YouTube o che sia Amazon, beh, non richiede ovviamente una fattura da parte vostra, ma per quanto riguarda lo Stato e per la legalità dovete fatturare comunque. Amazon e YouTube vi danno la disponibilità e vi mostrano come fare a fatturare nel vostro paese, quindi ci sono tutte le informazioni necessarie, potete farlo, anche in ritenuta d'acconto fino ai famosi 5.000 euro l'anno. E alla faccia di chi dice che questo non è un lavoro, visto che io pago le tasse o la mia partita IVA direi che è un lavoro. Che io faccia qui su YouTube o che faccia il panettiere non cambia assolutamente nulla. Beh ragazzi, io spero veramente di avervi dato delle nozioni importanti per capire quanto effettivamente si può realizzare qui su YouTube anche con una nota di realismo, ovvero arrivare a rendere questo un lavoro nel vero senso del termine, quindi mantenersi con affitto, bollette, cibo e quant'altro, ci vuole tanto tanto sacrificio. E non è comunque detto che la cosa funzioni, quindi non fate come alcuni vi consigliano di fare qui su YouTube, ovvero di mollare tutto, dedicarvi 100% a YouTube perché è pura follia. Sono su questa piattaforma da sei anni e per quattro anni e mezzo ho sempre lavorato. YouTube è rimasta sempre una cosa secondaria, fino a che le due cose non potevano più coesistere e di conseguenza ho scelto per la cosa che più amavo e che più mi avrebbe reso felice, ovvero portare video qui su questa piattaforma. Quindi mi raccomando ragazzi, fate le cose con la testa, ovviamente seguite le vostre passioni, ma per prima cosa studio e poi lavoro, così che vi create sicuramente un futuro. Se domani non dovesse esserci più YouTube, io saprò reinventarmi, perché ho acquisito parecchie conoscenze in tanti ambiti lavorativi per più di 15 anni, prima di fare quello che vedete ora. Detto questo, davvero boomer, però era fondamentale, non mi resta realmente che salutarvi, quindi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!